Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo video vi spiegherò velocemente come impostare i DNS di Google in Windows 10 per visitare quei siti web che normalmente sono bloccati e che quindi senza questi DNS non potete visitare. Se avete quindi Windows 10 andate su Start, digitate Rete e avviate Visualizza connessioni di rete o in alternativa andate nelle impostazioni quindi da qui dall'ingranaggio, andate su Rete Internet, modifica opzioni scheda e vi troverete di fronte questa schermata. Tasto destro del mouse sulla connessione Ethernet o Wi-Fi che state utilizzando e poi proprietà. Andate su Protocollo Internet versione 4 e a DNS preferito impostate 8888, a DNS alternativo 8844. Cliccate su OK, OK e il gioco è fatto. Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.